Ciccucu, qui falco a tutti, qui falco a tutti, non dico, voglio che intassi questo aneddoto, dove che praticamente ha un ferie rimini quest'anno, c'è che si c'è, le mie donne, perché se la mia donna mi ha messo la sua donna, quindi le donne, perché l'oltre è la mia donna ovviamente, decidono di portarci a fare un giretto in centro. Me e me socio però che sono le birker stop, sono mie se si spiega la scala delle durezze dei materiali, che è il diamante, e poi sotto che è le birker stop, la suola in particolare delle birker stop, che è la mia da gomma ovviamente, ma anche le da lenno. In parte, questo giretto in pratica si è tramutato in una doppia maratona nel centro di Rimini, girando per lungo e per largo tutte le vie possibili e immaginabili per raggiungere Piazza del Comune, nella quale c'era una fermata del trenino per Tornandrea, già a metà strada a me e il mio socio, colmo delle uvovie, pieme di boiler in pratica, in più fa male come una trenta con i pei sterne, in sostanza, se cosa succede, che ciò che c'è nel trenino, per vedere se si potrebbe tornare con il trenino, cazzo, ma il trenino è la mia, è già stata fatta l'ultima corsa. Allora, se ho deciso di fare, cazzo, se si è tenso, in due bar, quasi si direi che mi sono passato sulla destra, se si è tenso in due bar, e, bim, no? Allora, se capisci che l'è colto da influenze positive, vista la sedia, la chicchera di birra, eccetera, mi veniva come un, cioè, la pancia che fa come un rumore, un rumore strano, e mi avevo detto, no, no, se che le robe che praticamente, o te et, o te chiede andare subito, non concedono sconti, avevo detto, se ci soppi, mi sono concedato, sono andato dentro, del bar, dal bar, no? Del bagno, dal bar, scusatemi, anche se ne guidavo, anche a navigatore, che pensi che mi ha tanto bene. Allora, niente, il bar è tranquillo, ben lì, alla moda, e anche un buon bagno, praticamente, nell'interno, si alza una, che senti quello che diceva, ragazzi, vado un attimo in bagno, allora mi diceva, aumentate il passo, quello che stava, anche io, se la volete lì, e che era un bagno unico, uomini e donne, no? Male and female, e niente, ehm, niente, ehm, ho riuscito a precederla a quel due metri e mezzo per sigillare sdete, e praticamente lì che è stato un evento, ehm, abbastanza potente, dice, no? Ecco, tanto è vero che, ehm, ho riuscito al di dopo sul giornale, che era stato questo evento, nel centro di Rimini, in piazza del comune, andò e che capì a me cosa era successo. Aveva ragione, notri, al di dopo, che abbiamo fatto il trenino e siamo passati da lì, no? Che era fuori, a me, fuori dal bar, che era tipo dei camion che li con i tubi che, i spurghi, i Rimini spurghi, e che era a me, al titolare, che era il secolo, e poi lo scuola che fa, no, no, che si sia mia capacità di cose che cases hai, ecco, capo.